frigliani davanti frigliani davanti a condurre fedele ma non in seconda posizione frigliani di box eccola anche la macchina però è di servizio ci sono signori si sta per incoronare il podio per quanto riguarda il percorso di gira della ventesima edizione Gran Fondo Città di Vincenzo e Signori ecco l'attacco 400 metri di migliorato anche la polizia stradale e non ringraziamo lo spettacolo anche il percorso di gira signori ecco il percorso di gira ecco l'attacco di migliorato ecco l'attacco di migliorato per 300 metri attenzione sono cari insieme in lontananza si introdite non è manciato la parata non è in questo momento il ziggio e il ziggio sulle sole stradale lo vado in questo box è data di lontano si vede attenzione figliari faccio la parata lo avevo detto queste voce è fedele è fedele fredele Manuel fredele su fredele su figliari e fraternali signori questo è il podio per quanto riguarda il percorso lungo bravissimo il portacolone della go fast fredele Manuel fredele Manuel che è riuscito a prendere la rotta su una volata lanciata da lontanissima da Frignani Diego della Stemax complimenti a questi ragazzi poi il fredele Vito libera davanti fraternali Martina dell'MC Capolis che era subito pronto su questa spinta di lungomare aspettiamo l'intervista veramente ripeto un podio un podio veramente importante questo sta a significare la le grosse presenze qui alla ventesima edizione della Gran Fondo Città di Ricciore Natura Grazie a tutti Grazie a tutti